Referendum per un VCO Lombardo, le reazioni dal Novarese. Il passaggio del VCO alla Lombardia segue il concetto di un figlio che non viene considerato e vuole andarsene. Basta vedere la situazione delle strade, della viabilità, la non concessione dei canoni idrici, il mancato avvio dell'autonomia che avrebbe portato risorse e pacifico che si valutino altre strade. Così il deputato della Lega e sindaco di Aron Alberto Gusmeroli, che è impegnato nella promozione del territorio della terra dei laghi precisa, Il ragionamento non cambia, sia che il verbano Cusiosso la resti in Piemonte, sia che passi in Lombardia per la valorizzazione turistica. Occorre ragionare per territori omogenei, peraltro già attualmente collaboriamo molto bene con la sponda lombarda del Lago Maggiore, aggiunge, sottolineando come ascoltare una popolazione mai ascoltata sia comunque un bene. Nessun timore che la fascia di Lago Nuvarese, quindi piemontese, tralese e castelletto, possa rimanere esclusa. Attualmente è la fascia di Lago più vivace dal punto di vista turistico, grazie a grandi eventi come le frecce tricolori, l'arco di Palmira, la bandiera blu di Arona. Bisogna far sì che tutti i territori abbiano più risorse, risponde Gusmeroli. Sulla questione abbiamo sentito anche la provincia di Novara. Nessun rischio di isolamento per il novarese, secondo il vicepresidente Giuseppe Cremona, della lista alla provincia in comune legata al PD. Siamo una provincia ben strutturata e omogenea, afferma. È dubbioso sul viceo a Lombardo. Non so se possa essere un buon affare, si parla dei canoni idrici come soluzione di tutti i problemi, ma la vera soluzione è che le province tornino a riacquistare il loro ruolo. Cremona, da lungo tempo in politica, ha vissuto la divisione della provincia di Novara, con la nascita del viceo. Non senza qualche sofferenza e disapprovazione personale sull'onda della proliferazione di questi soggetti negli anni 90, spiega ed aggiunge. Come penso che quello sia stato un errore, non credo sarebbe utile al VCO a transitare in Lombardia. Non vedo prospettive più favorevoli rispetto allo stare in Piemonte. Prosegue e conclude con un esempio. Abito in un comune ai confini con la Lombardia. Viaggio spesso sulle loro strade provinciali. Pensavo che le nostre fossero disastrate, percorrendo le loro mi sono ricreduto.